Pronto? Sì? Salve, la chiamo da Commercy.com per confermare l'acquisto che ha appena fatto via internet. No, chiedo scusa, che acquisto fatto via internet? Scusi? Scusi, la sento male, pronto? Scusi, la sento abbastanza male. Pronto, mi sente? Sì, le volevo confermare l'acquisto che ha appena fatto via internet del modulatore wavepond.com al prezzo di 200 euro. No, non sono io. Devo solo dire i nomi del PIN che le sono appena arrivati. No, 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 non sono io. Scusi, mi sente? Non è stata lei a fare l'acquisto? No, io sono argentiero. Sono argentiero io. Se lei ha questo numero di telefono a cui sto chiamando, qualcuno ha fatto questo numero come acquirente e ha inserito una carta di credito. La carta è questa. Le dico la numerazione. 1, 4, 5. Un attimo solo. Prego. Senta, può prendere nota per controllare? Guardi, io momentaneamente sono al lavoro. Ecco, allora, mi fermo il numero. Lo facciamo sempre per evitare frodi telefoniche. Allora, le dico il 1, 4, 5. Sì? No, ma io a me non è uguale. Non è uguale. Non è uguale. No, ma io a me non è uguale.